forse non lo sapete ma nel vostro supermercato di fiducia oltre un terzo dei prodotti è venduto quotidianamente in promozione e come potete immaginare a questa situazione non sfugge nemmeno il pomodoro tanto che un frutto ogni 5 viene venduto ad un prezzo ribassato il che significa in altri termini che la pressione promozionale ovvero l'intensità delle vendite scontate è circa il 20 per cento ma sentiamo dalla detto di un punto di vendita quali sono le attività promozionali più diffuse sul pomodoro ultimamente oltre a fare le solite proposte comunque promozionali tagli presti ci stiamo concentrando su delle esposizioni anche abbinate ad altri prodotti come possono essere le erbe aromatiche il basilico l'origano o anche mozzarella quello su cui spingiamo molto è anche la zona su cui vengono fatte queste esposizioni che deve essere sicuramente una zona di attrattiva per il cliente perché non dimentichiamo che è importante sicuramente il rapporto qualità prezzo ma anche l'occhio vuole la sua parte l'aspetto del prodotto gioca quindi un ruolo chiave nel successo delle promozioni e questo anche considerando che il 30 per cento degli italiani dichiara di comprare in promozione ma solo se il prodotto presenta caratteristiche qualitative adeguate e un 15 per cento addirittura compra in promozione ma solo se viene offerto il prodotto che acquista abitualmente dall'altra parte invece appena il 6 per cento degli italiani acquista esclusivamente in promozione e questo indipendentemente dalle caratteristiche del prodotto offerto ma sentiamo cosa stanno facendo i produttori per districarsi nel mare magnum delle promozioni io punto molto sui prodotti di nicchia che non che mi danno vabbè diciamo le rese ma che più che altro mi danno la particolarità qualitativa che già a occhio si deve vedere e dopo al gusto quindi in questo caso il datterino quello che produciamo noi è un datterino a grado brics 15 e quindi che è riconosciuto e piace a tutti i nostri clienti dunque alla fine torniamo sempre al gusto come giusto che sia qui potremmo tentare di aggiungere giusto per rimpolpare un po l'offerta come si dice molto bene al pomodoro anche l'origine locale dei prodotti seguendo quella tendenza che vede gli italiani sempre più interessati ai prodotti dei loro territori ma sentiamo cosa ne pensa un produttore abbiamo visto che il prodotto locale ben visto dai consumatori sempre però mantenendo un'alta qualità perché il prodotto diciamo scadente locale o non è locale è comunque scadente sarebbe proprio il caso di dire viva la sincerità e questa lapidaria conclusione ci fa capire che sulla strada della qualità si aprono ancora una volta le migliori opportunità per sviluppare i consumi del rosso se volete scoprirne i segreti non perdetevi la prossima puntata grazie a tutti